Forse, in quanto ex capitale dell'impero romano d'Occidente, sede quindi delle maestranze imperiale e sede del vescovo ambaogio, Milano nell'alto medioevo fu città di valenti orafi ed intagliatori di avorio. Si pensi alle orificerie Longobarda e Franca che produssero la Corona Ferrea e l'Altare d'Oro di Sant'Ambrogio. L'arte carolingia e ottoniana tra il IX e il X secolo fu caratterizzata da notevoli opere di intagli in avorio, con capofila alla scuola di Acquisgrana, principale sede imperiale. Con Ottone I numerose scuole fiorirono o rifiorirono grazie alle committenze di varie famiglie nobili. In Italia la scuola di Milano fu la più importante, al pari di altri centri in Francia, Svizzera e Germania come Ratisbona, Metz, Tours, Hildesheim e Magonza. Alvori milanesi di questo periodo sono esposti nel Tesoro del Duomo di Milano, al Castello Sforzesco, ma anche all'estero, come questo bell'esempio conservato a Monaco di Baviera, che ci ricorda nelle forme il Ciborio di Sant'Ambrogio, eseguito verso il 972. La placchetta, scolpita da chissà chi e soprattutto chissà in quale scomparso laboratorio del centro di Milano, vuole descrivere i particolari in modo minuzioso, dai trappeggi dei vestiti alle tegole dell'edificio ai capitelli corinzi. Essa testimonia un periodo eccezionale per l'arte europea. La tradizione carolingia si fonde con l'antichità classica romana e con la modernità dello stile bizantino. A suo modo questa placchetta è un sunto della famiglia dell'imperatore, il sassone Ottone II, sposo della principessa bizantina Teofano Scleraina ed erede dell'arte e della cultura dell'impero romano.